1,2,1,2,3,4 Sai quanti sono adesso i pezzi? Eh Stiamo a 26 Probabilmente qualcuno per fortuna non riuscirò a finirlo Di scrivere come test e si auto eliminerà Prego Non te lo dirò mai ma fino al che non torni Io rischio di impazzire Cassa E' basso E se non te lo scrivo adesso in un messaggio Ma se vuoi possiamo... Lo metti un attimo al lupo Butto giù quattro parole Magari E' la cosa migliore E' la cosa migliore E' la cosa migliore Niente di... Putta da là! Adesso E' la cosa migliore Erick adores Poi mi sono laureato, ho una buona facoltà Faccio credo l'approcato di una qualche società E tutto quello che ho imparato non mi serve a molto qua Anche il tempo mi è sfuggito e non so più dove sta Grazie per la visione